Eccoci qua, Gears of War 4, Xbox One Giochiamo a facile ovviamente perché sono curiosissimo di vedere questa campagna Che dicono che è bellissima, c'è una sorpresa finale che non la so, non l'ho spoglierato, non mi interessa Vediamo, siamo on the line, perfetto Tutto online, tutto funziona, ovviamente streamo a 500 km Arriverà la fibra, speriamo Benvenuti al controllo carrelli, chiamiamo l'ascensore iniziale Ero arrivato qui, ero arrivato qui, appena Io tipo in 20 minuti l'ho fatta Sono tutte queste dimensioni, la stessa identica forma e disposizione Ok, andiamo giù ai magazzini Del, portaci lì, Kate, vieni con me Certo Allora, vieni altri colpi, perfetto Ah, di qua si entra Prego Andiamo Siamo a bordo, mandaci giù Ehi, c'è qualche problema? No, 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 sto solo cercando di capire questi controlli Ah, ecco E qua, vedi, vi installi, sono tutti schiacciati Tu hai il gnasher e cose come Che succede là sopra, perdiamo potenza? Ah, ci sto lavorando Attenzione Space vertigo di Gardaland 3, 2, 1 Se ti metti qua, cosa fare ti schiaccia? T'ho detto, eh Oh Ah, perché ti prende qua Ecco, vedi Io una volta ero qua, tranquillo Mi sono Mi hanno pinzato Ok, siamo a posto Vai approfondire il fabbricatore Kate, ricordami di lasciare Petroli la prossima volta, ok? Ho sentito Qua penso che ci vuole Lasciarci la pompa Dammi Dammi Vai dotami a portare questo coso Ok D'accordo, forza Piano piano Salta, salta Ok, è carico Del, fai muovere questa cosa Ok, mi hai fatto praticamente qui Beh, non qui Appena si ferma Che arrivano fuori Avecina il fabbricatore Costruisci armi Eh 5.000 Per adesso non ne ho bisogno Però Per ripararmi Oh Del, bloccano l'ascensore Si è attivato un dispositivo di Porca miseria Mi ha espulso il sistema Trova il modo di rientrare Arrivano i seppugi Non fatevi avvicinare No Ma da dove? Guarda l'ora Sto rientrando nel si strette d'uno Ci sono Ma da dove vedo Qua Vai 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 Ti fai Una qua Non è mica facile Sbri Stemalo Arrivo Usate l'inti Per ricordi Un altro bot mobile Del, chiudi le porte di sicurezza Sbando dice Accesso vietà Capito Pronto per la discarica Ecco ne ha Pronto per la discarica Ovvio quello che mi Pronto per la discarica Pronto per la discarica Pronto per la discarica Pronto per la discarica Sbri 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 Cosentemente ho fatto morti indagine su bersagli nemici ci affiancano sono rientrando nel sistema, tenete duro, sono quasi si, sono nel sistema, non serve uno strappo? si, ci sto ammazzando no, sto provando ad evitarlo si, lo so, sono nella merda, servirebbe si, lo so, sono nella merda si, lo so, sono nella merda ok sono a posto vi riporto giù si, sarebbe bello ok finalmente finalmente aspetta che boh forza aiutami col fabbricatore no aiutami a portare questo coso dobbiamo uscire ti ricordi quando dicevi a Reina di recuperare un po' di JD? ricordamelo tu entriamo e usciamo, un lavoretto da niente, così dicevi sarà tutto più facile, no? torniamo da Oscar uno sarà molto... oscar abbiamo il fabbricatore chi è? tenente sei stato impegnato primo ministro che aspetto magnetico basta stupidaggini venite con noi quelli sono nuovi no hai due tengete il fabbricatore noi pensiamo ai nostri amici no 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 attenzione per esplodere no ah quel uomo super soltar mi sembra un subito che è vero Oscar Ah queste qua dovevo muoio non scoppiano Tuo sul terobio qua Ah Wow Eh mi servono colpi Andiamo Dammi 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 qua un po' di Dieci ne ho Uno C'è la distanza Ok mettiamo in chiara una cosa Quando sei comparso stavo per sferrare la vicente contro Jean Quindi tecnicamente tu non mi hai affatto salvato come dici Eh si Fascinante qualcuno ci tira fuori di qui Che cos'è? Merda sfondano le pareti No mi serve di nuovo Dammi di nuovo faccio la distanza Forza Andiamo Dai Bene il capitolo 2 Cioè siamo già al capitolo 3 Quindi tocca fermarci qua Eh non mi raccordo Atto 1 3 Vedi di nuovo amici Allora Noi adesso ci fermiamo qui E ovviamente Il prossimo video Continuiamo col capitolo 3 Di nuovo E atto 1 capitolo 3 giusto Buona così Ciao ragazzuoli